Musica Gianni alias GTI per Solo Palmari a farci visita in redazione questa volta HTC HD Mini lo smartphone si distingue per tre aspetti peculiari prima di tutto il design compatto, elegante il device ha dimensioni contenute ed è particolarmente leggero soltanto 110 grammi batteria compresa naturalmente la seconda connotazione è nel ruolo che il device riveste nella gamma HTC HD Mini sarà probabilmente l'ultimo esponente di una lunga dinastia di smartphone Windows Mobile i prossimi dispositivi high tech computer lo afferma la solo talpa monteranno Windows Phone 7 la terza caratteristica distintiva della HTC HD Mini prima per importanza è nelle prestazioni lo smartphone è veloce velocissimo le sorprendenti performance sembrano essere un onore delle armi ad un sistema operativo Windows Mobile appunto che ci lascia con l'edizione 6.5.3 la piattaforma Microsoft lo sappiamo è per antonomasia quella che meglio si adatta all'utilizzo business per via del software office integrato e per il supporto nativo della tecnologia Exchange dunque per vocazione ma anche grazie alle proporzioni ridotte e dalle prestazioni HTC HD Mini può senz'altro dirsi uno strumento ideale per il lavoro ma allo smartphone evidentemente piace anche essere di compagnia di buona compagnia tant'è che il comparto multimediale è tra i migliori del segmento il sottosistema audio attraverso gli auricolari stereo manifesta rispetto per la musica e dà in viva voce un volume chiaro e facilmente percepibile anche alla presenza di forti rumori di fondo ma l'HTC HD Mini esprime al meglio la sua vena da intrattenitore quando riproduce video attraverso il display con risoluzione da 320x480 pixel è possibile visualizzare pesanti filmati VGA senza alcuna incertezza lo dimostra il test di Core Player il cui benchmark ha registrato 119 punti percentuali utilizzando il trailer di Matrix clip ben nota a chi segue le prove di Solo Palmari a chi segue vediamo la velocità media è pari a 118.60 punti percentuali gli encomi sotto il profilo della multimedialità proseguono con le foto la camera da 5 megapixel purtroppo priva di flash è capace di riprendere immagini a distanza ravvicinata dall'eccellente qualità non può dirsi lo stesso per i panorami negli scatti in campo lungo il device non è capace di bissare i risultati pur allineandoci con la buona concorrenza lo stesso vale per i filmati ma si consideri che il sample oggetto di questa recensione è un prototipo come dire di qui alla versione retail del dispositivo c'è da sperare in un ulteriore miglioramento le ottime performance a cui abbiamo fatto cenno sono dimostrate dai test generali praticati con l'ausilio del sempreverde spb benchmark secondo l'indice del noto tool su oltre 50 dispositivi passati negli anni più recenti sotto il torchio della redazione di solo palmari HTC, HD Mini e quarto dietro soltanto a terminali che posseggono una CPU dal clock rate ben più elevato buono anche il comportamento del GPS anche lui sottoposto ad una prova per così dire obiettiva preso in esame tramite l'applicazione Visual GPS CE ha richiesto un minuto di tempo per il primo fix ma senza ricorrere al tool che consente di scaricare e salvare in locale efemeridi ed almanacchi dopo aver utilizzato il tool i satelliti sono stati agganciati in meno di 5 secondi e tenuti ben saldi anche all'interno di un appartamento dove attualmente ci troviamo Mini non è certo sinonimo di scarsità di funzioni se ci riferiamo al più recente smartphone Windows Mobile HTC sebbene tascabilissimo il device non scende a compromessi ricevitore satellitare, display capacitivo, sensori di gravità, prossimità e luce ambientale Tanner FM e pieno corredo di interfacce wireless a proposito il modulo telefonico svolge bene ma senza eccellere il suo lavoro come pure il protocollo Bluetooth attraverso il quale abbiamo effettuato l'accoppiamento con un auricolare in pochi secondi e senza alcuna difficoltà il wifi invece rappresenta l'ennesima gradita sorpresa in questo dispositivo dotato di un applet dedicato al risparmio energetico è stato capace di mantenere la connessione ad un router a circa 11 metri di distanza e con due muri tramezzi a fare da ostacolo il sistema operativo ha raggiunto un discreto livello di maturità proprio quando destinato a lasciare la scena tant'è con la versione 6.5.3 l'interazione in punta di dita è diventata efficace e funzionale ma una buona parte del merito va naturalmente all'interfaccia HTC Sense oltre a rendere più semplice, intuitiva e persino graziosa l'interfaccia utente la tecnologia proprietaria porta in dote all'HTC HD Mini alcune feature obiettivamente utili quanto insospettabili quando ad esempio arriva una chiamata il volume della suoneria si alza progressivamente per farsi meglio sentire non appena prendiamo il telefono in mano il volume invece si abbassa sempre automaticamente la botte piccola fa buon vino e chi berrà HTC HD Mini avrà moltissime ragioni per ritenersi soddisfatto dell'acquisto e ben poche per potersene rammaricare non ci riferiamo soltanto alle performance e dalle capacità multimediali che in relazione al settore Windows Mobile si attestano come abbiamo visto ai vertici ma anche al look grazioso ed accattivante caratterizzato anche dalle contenute dimensioni il telefono è stato realizzato per vestire jeans come un doppio petto grigio insomma un piccolo device dalle grandi qualità grazie a tutti Grazie a tutti.